2 agosto 1980, stazione ferroviaria di Bologna. Scoppia una bomba ed è tragedia. Quel giorno Roberto Natale di Montesilvano aveva appena 13 anni e si trovava alla stazione con il padre Osvaldo che si era momentaneamente allontanato dalla sala d'aspetto e salvò il figlio scavando letteralmente con le mani tra le macerie subito dopo l'esplosione. Era appena uscito dall'ospedale quel giorno perché avevo fatto l'adegenza qui a Pescara dopo hanno tolto il gesso a Bologna e stavo tornando a casa. Avevo delle fratture alla gamba. C'era suo padre che era andato un attimo al bagno, lei era rimasto solo? Stavo in seconda classe, mio padre era andato in bagno e quando è successo scoppiare la bomba e tornato indietro si è messo a scavare. L'ho mai ritrovato dopo un'ora. E con le probabilità lei è stato l'unico a salvarsi? Si dice che sono stato l'unico, non lo so, mi hanno letto l'orio, non lo so. E poi tanti anni alla ricerca di garanzie da parte delle istituzioni che non sono mai arrivate? Prima non mi interessava questa cosa, però più passava il tempo più mi aggravava a livello fisico e allora abbiamo fatto richiesta di lavorare al comune. Dopo 29 anni è stato accettato. Da quel giorno Roberto porta i segni non solo psicologici della strage di Bologna. Purtroppo per lui non sono stati momenti facili, anche perché è stato difficile trovare lavoro. Ci ha pensato ora il comune di Montesilvano ad assumerlo al tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operaio generico. Il comune ha fatto riferimento tra l'altro alla circolare della presidenza del Consiglio con cui lo Stato parla dell'intento di offrire un segnale di sostegno in termini morali ed economici in favore delle vittime per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata anche con il sostegno delle pubbliche amministrazioni. Ad annunciare l'assunzione è stato oggi il sindaco Pasquale Cordoma alla presenza di Roberto Natale. Le istituzioni si sono ricordate di questa persona che 29 anni fa ha avuto quella drammatica esperienza con ritardo ma si sono ricordate. La legge del 23 novembre del 98 che ci permette alle vittime del terrorismo di poterli assumere per chiamata diretta ed è un po' la risposta dello Stato verso quelle persone che hanno avuto queste drammatiche avventure e sono state vittime di questi tragici eventi ed è un modo in qualche modo per farli continuare a vivere. E lei ha tenuto a sottolineare che non è parente di nessuno? Sì, una nota un po' polemica perché ormai qua non si può fare qualcosa, non si può fare nulla che si alzano gli scudi in continuazione. Non è parente di nessuno, non è amico di nessuno, è una persona che ha diritto a coprire questo posto e noi l'abbiamo riconosciuto veramente con molto orgoglio. C'è una certa... Grazie. 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 Grazie.